Grion Luis Emilio nasce a Colonia Carogia nel Dipartimento di Cordoba nel 1967 da famiglia originaria di Capriva delle Friuli immigrata in Argentina nel 1878 laureato in giurisprudenza esercita dal 1992 la professione di avvocato nel 2011 è stato eletto sindaco di Colonia Carogia città con più di 20.000 discendenti di origine friulana si è sempre distinto per l'impegno sociale e culturale a beneficio della comunità dal 1990 fa parte della commissione direttiva del centro friulano di Colonia Carogia di cui è stato presidente dal 2002 a 2008 negli anni ha contribuito all'organizzazione di innumerevoli missioni istituzionali e politiche regionali rivelandosi sempre un prezioso punto di riferimento per la regione Friuli Venezia Giulia la motivazione è la seguente per aver contribuito alla conservazione, alla tutela e alla promozione delle tradizioni della lingua e della cultura friulana in Argentina e per essere sempre stato attivo in campo sociale come uomo politico e professionista diventando un esempio e una guida per la numerosa comunità friulana della provincia di Cordoba grazie 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 grazie